...organizzazione, sceglieremo da un'ottima cosa. Ora, parlare della vita, da tutte parole, non è semplicissimo, tant'è che abbiamo avuto, vi vedo un po' di più. Forse, non so, un motto che potrebbe rendere un po' un'idea o comunque uno spunto da fare partire potrebbe essere una cosa che ho visto e che secondo me è un buon punto in tempo. Il mio motto per crescere è giocare e sperimenti. Quindi, due parole, giocare e sperimenti. Il gioco nella formazione autore è presente nella misura in cui si vede un'ottima vita, si partecipa anche alla loro realtà quotidiana in un'attentale. Infatti, abbiamo seguito varie possibilità, comunque tutte sono completamente diverse dalla comprensione svolta. quindi le persone che provano ad affrontare i partecipanti, che verano...